E sono le 7.10 e inizia la nuova giornata, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti, questo è Good Morning Milano, state ascoltando Christian Radio, io sono Fabio Ranfi qui al microfono, come sempre con tanti giornali qui davanti, tante notizie, tante curiosità, qualche e tanta, 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 e dico ancora una volta, tanta buona musica, come sempre appunto per fare compagnia fino alle 9 per cercare di far iniziare nel meglio, nella migliore delle maniere questa giornata, venerdì 25 ottobre, è un venerdì e quindi, thanks God, it's Friday, ebbene sì, siamo arrivati alla fine della settimana, so che noi iniziamo già lunedì a vedere, diciamo è lunedì, da che frapporti la venerdì, quindi è tutta la settimana che speriamo sempre che arrivi questo giorno e finalmente eccoci qui, il venerdì, insomma, quante cose avete già in programma da fare nel weekend, quanto vi ammazzerete di fatica in questo weekend, perché poi è stato che tutto è così, no, no, io questo weekend non faccio niente, mi metto lì, mi riposo, non mi muovo, sto tutto il giorno sul divano, ah, c'ho, guarda, c'ho 16 libri da leggere, 18 serie Netflix da riguardare, e poi, ah, no, 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 e poi alla fine sappiamo che è benissimo che non è così, già domani mattina alle 7 in coda fuori dall'IKEA per andare a mangiare le polpette, poi cosa fate? Tutte le fiere, ci sono le sagre in giro, nonostante il tempo non sia dei migliori, però c'è una marea di sagre in giro, fossi in voi io un'occhiata la darei, quindi poi ci sono una marea di eventi a cui andrete, in cui vorrete andare, quindi insomma, sono sicuro che poi ci risentiamo lunedì e lunedì dite, eh, guarda, il weekend è stanchissimo, mi sono ammazzato di cose, guarda, basta, il prossimo weekend è sicuro che dormo, sì, poi ne ripariamo il prossimo weekend. Iniziamo con un po' di musica, intanto, che vi svegliamo, lui fa David e poi fa Bowie, si chiama David Bowie ed è Changes. 7 e 15 minuti, eccoci qui di nuovo in diretta, grazie anche a chi ci sta scrivendo in questo momento al 3317853555. Prima di iniziare devo darvi una comunicazione che arriva direttamente dal sito ATM, perché la M1 è chiusa tra QT8 e Molino Dorino. Vado a leggere bene il comunicato che è stato appena scritto e stampato, diciamo, sul sito di ATM nella sezione degli avvisi, è arrivata anche la notifica sull'app, per chi di voi ce l'ha, gli dia un'occhiata. La M1 è chiusa tra QT8 e Molino Dorino, dove i treni sono sostituiti da autobus. All'8 si cambia con M5. Per raggiungere Roffiera usate linea S di Trenord da Garibaldi, Repubblica Porta Venezia o da Teo. Ci scusiamo, stiamo risolvendo un problema sulla linea. Considerate ovviamente maggiori attese. I bus sostitutivi fanno fermate a QT8, dove sono in Piazza Santa Maria Nascente, dopo Via Esernia. A Lampugnano, poi, sia in direzione Roche e in direzione Sesto. A Uruguay, sia in direzione Roche e in direzione Sesto. E a Bonola, in via di vicino, non proprio a Bonola. Comunque, poi a San Leonardo e anche a Molino Dorino. Quindi, in realtà, la tratta è chiusa tra QT8 e Molino Dorino. E per ogni fermata, appunto, date un'occhiata, ci sono l'autobus sostitutivo che fa fermata in superficie, se non proprio dove c'è la fermata nella via appena accanto. Date un attimo bene l'occhio prima di uscire di casa. Se dovete andare verso Rofira, vi consiglio ad usare, ad esempio, il treno con le linee S. Grazie ad Alberto che ci sta scrivendo, che dice Buongiorno Fabio, buongiorno redazione, buongiorno Cristallini. E tanta pioggia, anche oggi sì. Anche oggi dovrebbe essere una giornata abbastanza piovosa. E poi dice, il mio sarà un weekend da riprogrammare a causa di diversi imprevisti da incastrare. E alla fine, addio, relax. Noi tutti programmiamo di fare grandi relax, ma invece, alla fine, addio. Come sarà il vostro weekend? Potete dircelo tranquillamente al 331-7853-555. Prontissimi a ricevere tutti i vostri WhatsApp e le vostre condivisioni per passare una mattinata insieme. Vi ricordo appunto di dare un occhio, prima di uscire di casa, se dovete usare i mezzi pubblici, all'applicazione ATM che in questo momento ci sta dando l'indicazione della chiusura di M1 tra le fermate di QT8 e Molino-Dorino, quindi fino all'8 si arriva tranquillamente, poi fino a Molino-Dorino no, ma ci sono gli autobus che potete utilizzare appunto in sostituzione della linea chiusa. ATM e autobus che poi ne parleremo meglio nel prossimo blocco, perché mancano autisti, piedi di guerra dei tranvieri, sciopero in arrivo venerdì 8 novembre, insomma una bella combo, anzi un bel mix di notizie su ATM che ci fanno capire come la situazione è per niente risolta, come invece pensavamo potesse risolversi dopo alcune concertazioni con i sindacati e l'azienda, invece niente da fare e soprattutto c'è un grosso, grosso problema con quanto riguarda gli autisti che sono veramente, mancano e quindi di conseguenza linee tagliate, linee raccocciate, problematiche sulle linee magari, ovviamente quasi sempre, poi qui riscipo la mia verve da difensore delle periferie, quasi sempre però sulle linee quali? Quelle che vanno in periferia, quelle che vanno fuori, Milano, non credo che il tram 1 abbia delle corse tagliate, ad esempio, è così, faccio degli esempi così, giusto perché appunto sono amico delle periferie. Fare Williams con Peace by Peace, qui alle 7.21 su Cristian Radio, Good Morning Milano, e appunto vi dicevo che insomma nel momento in cui, ricordo ancora questa mattina, problemi sulla linea M1 che è chiusa tra QT8 e Molino Dorino, quindi in entrambi le direzioni, quindi autobus sostitutivi su quella tratta, ripeto, chiusa la linea rossa tra M1, Molino Dorino e QT8 in entrambe le direzioni, ma di ATM si parla anche sui giornali, infatti leggo adesso da Repubblica Milano che dice che mancano 350 autisti a Milano e quindi altri tagli alle corse dei bus ATM e i tramvieri sono in rivolta. Lettera di protesta da quasi tutti i depositi dell'azienda del trasporto pubblico, la rimodulazione dei turni provoca disagio ai lavoratori e agli utenti. Appunto la lettera dice che le rimodulazioni che sono state effettuate con l'orario invernale per sopperire alla carenza di personale ad oggi risultano insufficienti e si continua a sopprimere senza risolvere il problema, creando un distervizio all'utenza e difficoltà lavorative al personale viaggiante. La lettera è firmata alla RSU dei dipendenti del deposito ATM di Via Novara e indirizzata ai responsabili del personale. È una delle tante che nelle ultime settimane sono state scritte per denunciare la criticità dovuta all'assenza di conducenti di autobus e tram. Inizio ottobre l'azienda ATM appunto ha ritoccato per la terza volta gli orari dei mezzi di superficie, arrivando ad allungare le frequenze di 90 linee su 130. Cioè 90 linee sul totale di 130 hanno adesso dei periodi delle frequenze più lunghe rispetto a quelle che c'erano prima. Un espediente a cui ATM ha dovuto ricorrere per tamponare il problema appunto della mancanza di personale. Il deposito Sarca è arrivato al collasso per la carenza di personale, scrive sempre il personale ATM in un'altra lettera. Il 18 ottobre appunto un'altra missiva è partita dal deposito di Molise, quello della 90-91, per denunciare le richieste di lavoro straordinario e i cambi improvvisi di turni necessari per arginare la carenza di organico. In più vi ricordo anche che esiste un gruppo Facebook che si chiama Aspettami Milanesi in attesa dei bus, nato per accogliere denunce quotidiane dei cittadini alla fermata dei mezzi, ha raggiunto, pensate, quasi quota 3.000 iscritti e al momento, secondo gli ultimi dati riferiti da ATM, mancherebbero circa 350 artisti. Quindi insomma, autisti scusate, non artisti, stavo pensando a Facebook. 350 autisti. La cosa che appunto accomuna tutti quanti, noi cittadini e il personale ATM, è che appunto questi disservizi recano problemi sia all'utenza finale, che appunto non ha più una certezza della meta, dell'arrivo e degli orari, e ai lavoratori indipendenti ATM che non riescono più a gestire le proprie vite, che insomma, adesso ricordiamo sempre, non è che sono votati, non è una missione per cui sono votati al martirio guidando un autobus o un tram. ATM, soprattutto, so che sta facendo delle grosse operazioni di ricerca di personale, una sorta di task force è stata creata all'interno di ATM per riuscire ad arginare il problema, ma evidentemente ancora in questo momento non si riesce ad arginare, anzi non si riesce a risolvere, perché il problema è come quello, nel senso che si cerca con la mitigazione o comunque appunto i tagli di orario di arginare la situazione, ma nonostante i tagli di orario la situazione rimane, cioè i tagli di frequenza del passaggio degli orari delle linee, nonostante questi tagli comunque si continua ad avere grosse grosse problematiche, sia, ripeto, per l'utenza finale, sia per i dipendenti ATM, e tutto questo all'alba, alla vigilia di un nuovo sciopero, quello del prossimo venerdì, il primo venerdì di novembre, dove non dovrebbero neanche esserci le fasce di garanzia, o almeno così dicono i sindacati. Franco Califano, tutto il resto è noia. Franco Califano, ovviamente protagonista, nel senso che hanno fatto finalmente, un documentario, in realtà un biopic, così vengono definiti, su Franco Califano, presentato al Festival del Cinema di Roma qualche giorno fa, Franco Califano non vetrattengo, così si chiama il film, appunto presentato proprio anche in questi giorni, poi Roma sta facendo un bel giro, diciamo, di presentazione, ha praticamente poco più di dieci anni dalla sua morte, lui, Franco Califano è morto nel marzo del 2013, e quindi insomma adesso viene consacrato come giusto sia, come giusto deve essere, appunto, da questo film che si chiama appunto Franco Califano, non vetrattengo, questi giorni la presentazione, poi comunque arriverà a breve in tutte le sale cinematografiche, e non solo. Interessante vedere chi fa Califano, che adesso non mi ricordo come si chiama, perché ho perso il nome, perché sto guardando, la locandina c'erano un milione e mezzo di titoli, ma è quell'attore romano che ha fatto tantissimi film, cioè tantissimi videoclip con Daniele Silvestri, per esempio, ecco, quello lì, avete capito, posso dirlo, quello che c'è nel quel naso strano, ecco, proprio lui, sì, proprio lui interpreta Franco Califano, comunque, sì, poche notizie, come ha detto male, vabbè, ma perché mi sto avvicendando, mi sto prendendo bene per la prossima rubrica. Ho imparato da lei. Gli eventi della settimana a cui io non andrei, cosa stai dicendo? Buongiorno, è approssimazione, così, è spannometria. Uffa, non è che perché sono l'ideatrice della piccola guida non approfondita, adesso te ne devi prendere, insomma, gioco di me. Allora, io la chiamo spannometria, così proprio, una scienza. Un tot, un tot. Ecco, un tot. Allora, buongiorno, Ritbi. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon venerdì, che bello. Hai visto, è venerdì, sei contenta? Contentissima, sono un po' piena. Sto pensando che Crystal Radio inizia il lunedì con te e quell'altra tua amichetta che fa della vostra trasmissione e poi finisce il venerdì qua ancora con te. È stata proprio l'incipit, si è vista, una settimana disastrosa. Perfetto, benissimo. Va bene, andiamo avanti, dai. Ma quindi, per rendere ancora più disastroso il nostro weekend, dove non dobbiamo andare? Allora, io sicuramente non andrò a questi eventi. Voi, come dicevo e dico sempre, potete fare un po' quello che volete. Nel senso, se vi piace, vi interessa, andateci e divertitevi. Fateci sapere com'è di base. Ok. Però se non ci andate, oh, vabbè, mi avete seguito, non è colpa mia. Allora, intanto, prima di tutto, Asago Oktoberfest. Ah, bene. Per fortuna, ottobre sta finendo. Ah, ottobre. Sì, esatto. Siamo degli ottobrefesta che è settembre, novembre. Cioè, 25-26 ottobre nel centro storico, quantomeno il tempo fa schifo, almeno così sembra veramente di essere in Germania. Ah, bene, va bene. Te ci andrai sicuramente. Va bene, no, la birra non la bevo. La birra non la bevi, però ci saranno sicuramente i panini con i bradjust. Bradjust, sì, sì, quello sì. Esatto. Poi questa qua, invece, è una cosa che, secondo me, a te piacerebbe andarti. Sono fatto che domani mattina sono libero, è aperta la mattina la festa della birra di... Non lo so, nel centro storico può essere di giro. Ci uscire domani mattina, magari. Ok, come ci vede l'assago, dove parliamo. Ah, d'assago poi, non a Cusago. No, no, d'assago. Ah, pensa, sarei andato a Cusago io, quindi meno male che... Meno male, guarda. C'è la fiera del disco e dell'editoria musicale. Bello, ecco dove vado allora. Pieno di nerd, domenica però. Ma bello. È domenica dalle 10, in via Mosè Bianchi, al numero 94, c'è questa roba dove ci saranno piena, piena, piena di nerd. Ecco, cosa che non ti convince? No, no, sto pensando dov'è. Ah, boh, non lo so, io ho spreso la via, via Mosè Bianchi 94, fiera del disco e dell'editoria. In realtà questa cosa l'ho pensata per il nostro Alberto. È vero, sì, sì. Secondo me il nostro Alberto potrebbe andarsi. Ecco, vedi, adesso va diventata neanche spannometrica, proprio ad personam gli eventi che presentiamo. Ho proprio pensato a te Alberto quando l'ho trovato. Adesso vuoi, quella che mi indispettisce tanto o quella che mi indispettisce medio? No, iniziamo dal medio, così facciamo uno scalare. Ok, ok. Quella che mi indispettisce medio in realtà è perché non capisco come si possa essere così, ma fa niente, è il MiVeg. Eh, è il MiVeg. Il Festival Vegan a Milano 2024, sabato 26, domenica 27 agli Stand Studios in Via Mecenate 28. Diciamo che a te non piace quel posto lì, cioè tu ce l'hai su con qualsiasi cosa facciano lì, anche se facessero la tua festa di compleanno. Sì, molto probabilmente sì. Ma di base, penso, a tutta la gente invasata di vegano che andrà lì. Ma perché? Non è che tutti i vegani sono invasati, cioè... Tutti insegnanti di yoga. Non è vero, cioè tu non hai mai mangiato vegano. Io ho mangiato vegano, assolutamente, ma mi piace chi dice ah sì, sono vegano, sono capace di fare, noi invasati. Guarda che tra i vegani ce ne sono tanti. Ma se ho capito, ma ci sono invasati anche tra quelli che fanno il paddle, quelli che fanno i carnivori. Certamente, infatti sono tutti detestabili. I carnivori, quelli dello champagne, trova una cosa, se fai una fiera, quasi sempre sei invasato di quello, se no non ci va la fiera di quella roba lì. Tutto ragazzi, questo è tutto, l'estremo è sempre sbagliato, ricordatevelo. Sì, non esisterebbero le fiere, le feste. Secondo te chi è che andrà il mi vegan? I vegani, ovviamente. Eh, ovviamente, sono molti invasati per bene. Vabbè, ok. Ma è normale che un invasato vada a una fiera? Questo che voi ho cercato di capire. Vabbè, non c'è mica bisogno di arrabbiarsi. Se fanno una fiera dei colori, ci vanno quelli che sono invasati di colore. Capito? Non è che c'è bisogno di arrabbiarsi. Scusate. Fabio andrà al mi vegan, perché lui è aperto ai popoli. C'è una fiera della gestione della rabbia? Sicuramente quella sarebbe piena di gente invasata come te. Esatto. Nel frattempo è arrivato il saluto di Alberto, che ti ringrazia, dice un saluto a Eribi. Vacci Alberto, facci sapere come va. Dov'è che è? In via Mosè Bianchi a 94. L'ultimo evento, a cui io non andrei, è in realtà un evento che mi piacerebbe vedere. Però, è quella parte milanese che... Perché non ci vai? Perché è quella parte milanese che non mi piace. Cioè, esistono gli swap party, esistono i mercatini delle pulci, ok? E solitamente non sono neanche ben frequentati. Ok. E questo ti piace tantissimo? No, lo swap, sì. Lo swap è frequentato bene. I mercatini delle pulci... Va bene. E ci siamo fatti amici anche... C'è sempre quell'odore lì un po' di... Non diciamolo. Bene, Ci siamo fatti amici anche quelli dei mercatini delle pulci, benissimo. se un mercatino è delle pulci, perché le pulci diventano pettinate? In che senso? Nel senso che sono fighette, le pulci pettinate. Ah, si chiama così l'evento? Ma che si chiama? Le pulci pettinate. Oddio. Alla salumeria del design, in via Stazio, può essere? Può essere, non lo so. Ci sarà il 27 ottobre, cioè domenica, dalle 12 alle 21. Questo è un evento che molto spesso c'è. Ho deciso soltanto adesso di affrontarlo perché non è il mood corretto. Ah, ok. Cioè, proprio di completa... Mi piacerebbe, mi piacerebbe andarci, ma so già che mi farebbe venire l'orticaria, perché c'è tutta quella milanesità che non mi piace. Ecco, capito. Comunque, il mood giusto è quello del rigetto? Sì, il mio mood giusto è quello del rigetto. Ok, voglio capire questo, va bene. Comunque, ti confermo che è via Cecilio-Stazio. E dov'è? È zona poco sopra la centrale... No, Nolo. Sto guardando alla fine Nolo. Mi piace che tutta sta roba, io sono quella sovversiva che dico, ah, non ci andrei perché il titolo bla 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 e poi qua c'è una lotta aperta contro Nolo. No, allora, in realtà non è no, no, chiedo scusa a quelli non di Nolo. No, chiedo scusa a quelli non di Nolo, in realtà è dall'altra parte rispetto a a Via Le Monza è attaccata a Via Padova, però vabbè, cioè, capisci? Diciamo che è nei confini di Nolo. Le pulci pettinate, ragazzi. Sì, è un angolo via Padova, ehm, sì, sì, è lì, Via Le Lombardia, in fondo, Via Le Lombardia, ah, dove abita, credo che sia dalle parti dove abita, infatti, infatti vedi, è dalle parti dove abita Beatrice, la nostra producer, abita lì. vedi, vedi, quindi Beatrice. Ah, abiti lì, ah, sì, è stata alla salumeria del design, diceva, ok, però non abiti alla salumeria del design, no, ok, va bene. cioè, lei è ai confini del regno, quindi, in che senso? Quasi a Nolo. È che lei è praticamente quasi a Nolo, sì. Come hai fatto a entrare in questa redazione? Perché? C'era una grotta aperta. Un saluto a tutti quelli di Nolo, va bene? Un giorno farà anche tutti. E ci facciamo amici anche quelli di Nolo. Un giorno farà tutti i quartieri che odio. Eh, vabbè, no, beh, dai, non ce ne sono tanti, a parte Nolo. Eh, no, diciamo, no, non ce ne sono tanti, dai, No, non ce ne sono tanti. Vabbè, dine un altro, giusto perché se no Nolo ci rimangono male? Famagosta. Ma perché quelli di Famagosta? Sono ai confini del niente. Ma poveretti, già sono lì, appunto a Famagosta. Ciao amici di Famagosta. Vabbè. Comunque sono un'ex amica del Barios. Infatti, che parla, Famagosta, Famagosta, A me comunque non piace Milano Est. Va bene, ok, a me ma quello si sa, tra Est e Ovest c'è sempre stata una battaglia, ma i Navigli li prendiamo noi, che sono nella nostra Ovest. Sono un gioiello, non solo perché c'è di mezzo Leonardo. Va bene, Eribi, grazie mille, ci sentiamo lunedì? Grazie a te, sì, assolutamente, ci sentiamo lunedì, tra le 20 e le 21, io e M&M. Con Trenmi. E questo era Gali con Paprika, le 7.48 minuti, dopo gli eventi della settimana a cui Eribi non andrebbe, vi dico un po' di, vi leggo ancora un po' di notizie. Oltretutto, vabbè, molti eventi che ha detto Eribi sono gratuiti, altri invece sono a pagamento, non si, di te, ma sono troppo cari, tranquilli, siete nella stessa barca con tanti altri milanesi, perché una ricerca di Tortuga adesso, da questo quadro, leggo da Corriere della Sera Milano, Milano e il costo della vita troppo alto, e c'è una proposta, salario minimo di 8,3 euro, allora, copiamo il modello Londra, appunto la ricerca di Tortuga con adesso, per una singola, tra i 18 e i 29 anni, il costo del paniere minimo di bene a Milano è superiore del 23%, rispetto alla media delle altre aree metropolitane, e sappiamo già che gli stipendi non sono superiore del 23%. A Milano i lavoratori più poveri, i giovani, quelli con un titolo di studio meno elevato, gli operai e i lavoratori nelle imprese più piccole, guadagnano spesso meno che nel resto d'Italia e della Lombardia, pensate pure, nel senso non neanche cornuti mazziati, come si dice in questi casi, vi costa di più la vita, e oltretutto, per certe fasce, diciamo, meno specializzate, del nostro lavoro, appunto, si hanno degli stipendi, comunque, più bassi anche del resto di Italia. questo è appunto quello che si evince da questo studio, fatta appunto da questa ricerca fatta da Tortuga con Adesso, Adesso che abbiamo avuto anche qui ospiti, che appunto è un think tank di studenti, ricercatori, professionisti del mondo dell'economia, e delle scienze sociali, nato nel 2015, e che in questi anni appunto ha collaborato con IMS, con l'osservatorio sui conti pubblici, con Google, insomma, con varie realtà per cercare di trovare delle soluzioni, e la soluzione ci sarebbe, la proposta qual è? Quella del salario giusto a Milano, che poi si può tradurre in salario minimo locale, così si potrebbe tradurre, no? L'idea viene mutuata dal living wage, dal London living wage, della capitale appunto britannica, che è un'idea di salario minimo legato alla città di Londra. Qui l'idea potrebbe essere quella di portare questo salario minimo, appunto, a un'idea più milanese, cioè quindi rendere, creare a tutti gli effetti un salario minimo per le aziende milanesi, che come funzionerebbe? Beh, le aziende che starebbero a questo patto, avrebbero poi degli screvi fiscali, delle agevolazioni, insomma, il comune, la regione, insomma, chi poi, gli attori che entrano a far parte di questa partita, potrebbero aiutare le aziende, che invogliare le aziende appunto a sottoscrivere questo patto per il salario minimo. La cosa interessante appunto che vi ricevo è questo, che per un single tra i 18 e i 29 anni, i beni primari, il costo della vita per i beni primari, a Milano è superiore del 23% rispetto alla media delle altre aree metropolitane, che appunto troviamo in Italia. Ma, come dicevamo, per le categorie magari meno specializzate, o per i lavori più basici, diciamo, scusate, passatemi il termine, invece, a volte, gli stipendi sono anche i più bassi della media nazionale. Insomma, per niente semplice riuscire a vivere a Milano, lo sappiamo benissimo, l'idea di adesso è quella appunto di proporre questo salario minimo, che potrebbe magari appunto risolvere qualche problema. Vi invito ad andare a ricercare sul nostro sito la vecchia intervista che abbiamo fatto proprio ai ragazzi di adesso, che spiegano molto bene il modello londinese e come questo modello londinese si può spostare, si può pensare di trasportare anche nella nostra città. Insomma, quando c'è qualcosa di bello in giro per il mondo, perché non prenderlo e portarlo anche a Milano? Amedeo Minghi e Mietta, era il Crystal History delle otto, qui su Crystal Radio Good Morning Milano, vi ricordo sempre sull'FM96.2, sul Dub Plus di tutta la Lombardia, e ovviamente sull'applicazione per iOS e Android, con cui potete ascoltarci ovunque voi siate, in qualsiasi parte del mondo, ricordiamo che c'è chi ci ha ascoltato anche da Tokyo in un certo punto, quindi insomma, vi ricordo questo, ma soprattutto io tutte le mattine vi lieto la sveglia, spero, con le notizie che leggo sui giornali locali di Milano, ma insomma, non è che li scrivo io, anzi, vado a mani bassa a rubare il lavoro che fanno altre persone, altre bravissime persone, come ad esempio la nostra ospite di oggi, che è Lucia Landoni. Buongiorno Lucia. Buongiorno a voi. Collaboratrice giornalista di Repubblica, Lucia, grazie, perché sai quante mattine riesco a svoltare grazie ai tuoi articoli. Grazie a te, grazie a te. Il nostro lavoro ha senso se c'è chi lo legge, il chilo di fondo, quindi grazie a te. Per fortuna che ci siete, perché insomma, sono tanti, appunto, gli articoli, spesso appunto è un nome, quello di Lucia, che sentite spesso uscire dalla mia voce quando leggo gli articoli, e oggi invece ho voluto finalmente averla qui, perché insomma, io sono molto attratto e curioso su quello che significa raccontare Milano, su cosa significa la redazione locale, che poi ormai sappiamo, poi, locale, non locale, ormai i confini sono veramente labili in tutto. Molto labili, assolutamente sì, anche tra i vari mezzi, tra il giornale, le piattaforme social, che riprendono i nostri contenuti, per questo ti dicevo che comunque è un bene che i nostri contenuti girino, perché noi andiamo a cercare le storie, andiamo a raccontare le storie, ma poi le storie hanno senso se c'è qualcuno che ci fa la cassa di risonanza, sostanzialmente, se c'è qualcuno che le ascolta. Noi senza i lettori, senza gli ascoltatori, senza chi va sui social a leggere le nostre notizie, sostanzialmente non vivremmo, nel senso che appunto il nostro ruolo è quello di dare voce, a chi grazie a noi riesce a raggiungere una platea più ampia. Insomma, le notizie che scrivete sono sempre, praticamente qualunque cosa, cade una penna a Milano, i vostri giornali la sanno e lo raccontano, e tante anche storie, tante storie. Quali sono le storie più interessanti che hai finora raccontato, insomma, o la notizia che invece l'ha colpito di più nel doverle raccontare? Le storie sono veramente tante, forse le più interessanti, che non è una storia sola, ma una serie di storie, sono quelle, perché anni fa ci eravamo messi in mente di raccontare come Repubblica Milano, il cambiamento di Milano, ma andando a fare un lavoro un po' particolare. Poi abbiamo raccolto questo ciclo di articoli, alcuni colleghi, anche in un libro, che è là dove c'era ora c'è. Per cui raccontare il cambiamento di Milano, per esempio, io mi ricordo, mi aveva colpito moltissimo andare in via Madonnina, per cui pieno centro, Brera, zona adesso assolutamente lussuosa, anche inarrivabile, se guardiamo, se entriamo nel tema del caro affitti. Beh, lì allora inarrivabili sono tante le zone inarrivabili. Assolutamente sì, ma questa è una tra le più inarrivabili. Ci rimane solo Baggio, lo dico sempre. Ecco, ma anche lì sai che si dipende anche Baggio. La gentrificazione arriva ovunque. Si dipende ampiamente anche Baggio. E lì però, nel momento in cui vai a parlare con le persone che vivono in via Madonnina da appunto da una vita, che sono nate lì, che se la ricordano com'era, ti raccontano che ci fu un tempo ormai remoto, ma in realtà non così tanto, perché c'è chi se lo ricorda, in cui via Madonnina era via di bordelli e la via dove soprattutto c'era il deposito in cui gli spazzini di Milano arrivavano a depositare le loro attrezzature. Quindi c'è stata un'evoluzione. Via Madonnina come Figino. Assolutamente sì. Nel cuore di Brera c'era anche una parte di Milano che lì non avremmo mai immaginato. Non avremmo mai immaginato. Assolutamente no. Com'è conoscere appunto e interagire con queste persone che ti raccontano una Milano che ovviamente noi non possiamo neanche immaginare? Ma guarda, secondo me le persone vogliono comunque essere ascoltate nel momento in cui riesci a superare la loro diffidenza, perché capita, soprattutto nel momento in cui dici di essere un giornalista, oddio, la nostra categoria non sempre gode di buona fama. Per fortuna esistono gli assicuratori che sono più odiati di noi. Che sono forse peggio di noi. Forse sì, forse sì. Un saluto a tutti gli assicuratori in ascolto. Assolutamente, anche perché ho anche cari amici assicuratori per cui non vorremmo mai assolutamente rovinare i rapporti diplomatici, ma sicuramente ce la giochiamo con questa categoria. Una volta che però appunto ti dicevo superi questa diffidenza, allora le persone hanno voglia di raccontare, di essere ascoltate, di essere viste, ma soprattutto ti dirò appunto di raccontare quella che è la loro verità. Nel senso che forse il motivo per cui non vediamo sempre ben visti è che c'è l'idea che il giornalista sia troppo scollato dalla realtà, sia troppo lontano, che dia un'interpretazione sua, che non racconti quello che davvero succede. In realtà, se poi parli con le persone, mi è capitato più di una volta che mi facessero uno dei complimenti credo più belli che si possa ricevere, è esattamente quello che volevo dire. Hai raccolto esattamente, che dovrebbe essere una cosa di semplice buonsenso, scontata, nel senso noi appunto dobbiamo raccogliere le testimonianze di altri piuttosto che le voci di altri e raccontarle, riportarle il più fedelmente possibile. E come quando dice il fidanzato tu sì che mi capisci, che dovrebbe essere scontato, ma non è così scontato. Esatto, e quindi ogni tanto arriva questo complimento dell'esattamente quello che volevo dire, hai capito esattamente quello che volevo dire, per cui vuol dire che abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatto. Sono proprio le stellette che ti si mettono sulle mostrine, no? Assolutamente sì. Bene, allora Lucia, senti, io poi voglio sapere anche cosa ne pensi proprio di Milano, cioè ormai tu l'hai girata in lungo e largo, la conosci, la vivi ormai da anni, quanti anni hai che scrivi di Milano ormai? Su Repubblica Milano sono 15 anni quest'anno. Insomma, diciamo che è una bella, una bella, un bel occhio sulla città, un osservatorio, come si dice in queste case, privilegiato, ok? E allora rimani qui con noi, adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo qui appunto insieme a Lucia Landoni. Se volete, 331-7853-555 il nostro numero di Whatsapp. Grazie anche a D'Alberto che ci manda i suoi auguri per la giornata e continuiamo appunto con un po' di musica. Poi torniamo qui ancora a parlare di Milano, di notizie e anche poi le storie buffe che magari si incontrano e si incontrano in questa pazza città che è Milano. Tom Walker at Underwater alle 8 e 17 minuti Crystal Radio Good Morning Milano qui insieme a Lucia Landoni collaboratrice di Repubblica giornalista che ormai appunto diciamo da 15 anni racconti la città di Milano e allora la domanda sorge spontanea come diceva qualcuno molto prima di me cos'è Milano? Milano è una metropoli ti direi perché è un termine che spesso quando cerco il famoso sinonimo perché Milano l'ho già usato città è troppo riduttivo capoluogo lombardo sembra troppo burocratico è una metropoli una delle etichette più abusate forse che è l'unica vera metropoli italiana e in realtà ti direi prima ancora è una realtà multiforme nel senso che nel corso degli anni ho raccontato ci stavo pensando proprio adesso una serie di sfaccettature di Milano che variano dalla Milano che accoglie per cui dalle reti di accoglienza pensavo anche al periodo orribile del covid per cui quando ci si erano inventati le ceste per lasciare qualche cosa a chi potesse averne bisogno a chi anche durante il periodo del covid viveva in strada per cui chi ha bisogno prenda chi invece ha la possibilità di al muro della gentilezza per esempio al tempio del futuro perduto di cui rilanciamo gli appelli ogni tanto quando c'è bisogno che il muro venga rimpinguato che si portino cose e invece quando ci sono i ringraziamenti a Milano che continua ad alimentarlo questo muro della gentilezza e alla Milano che invece però ha problemi abbiamo scritto spesso dei taxi che non ci sono abbiamo scritto spesso del fatto che anche banalmente i pezzi di servizio per cui lo sciopero di ATM piuttosto che la persona che lamenta il disservizio e allora andare a cercare di capire a cercare anche di fare un po' sostanzialmente da mediatori un po' da da voci appunto delle persone ti dicevo prima fare da voci alle persone che grazie a noi riescono ad avere una cassa di risonanza maggiore per esempio mi è capitato di recente di sentire le persone che durante uno dei purtroppo ormai frequenti alluvioni che hanno colpito Milano avevano parcheggiato l'auto nel parcheggio ATM di Romolo per cui sono trovati le auto sott'acqua sostanzialmente per cui cercare anche di aiutarli a farsi sentire far arrivare le loro esigenze ad ATM che poi va a loro riconosciuto è stata pronta ad ascoltarli anche grazie al nostro intervento però appunto lì mi sono sentita utile a tutti gli effetti perché ho parlato con queste persone le ho sentite veramente in difficoltà quindi varie sfaccettature alla Milano che ha oggettivamente magari dei problemi stiamo rilanciando di recente abbiamo rilanciato anche gli appelli di figure note e meno note per quanto riguarda la tematica della sicurezza per esempio per cui e anche lì però sta a noi cercare un equilibrio tra la denuncia legittima della persona che è stata protagonista a suo malgrado è stata vittima di un episodio disgraziato oppure che si è sentita a disagio per un qualche motivo anche lì appunto fare da mediatori tra questa realtà e quella invece di chi ti dice Milano in realtà non è così male come la si vuol raccontare Milano non è Gotham City Milano in realtà è semplicemente una grande città quindi con tutti i pregi e i difetti delle grandi città forse amplificati dal fatto che Milano per certi versi è sostanzialmente molto simile a New York i Grattacieli e dall'altro lato c'è anche ancora la Milano dei Cortili la Milano che rivendica le sue radici più popolari il nostro caro amico Simone Lunghi dice siamo la più piccola metropoli al mondo una delle storie più belle infatti che abbiamo seguito dall'inizio possiamo dire è proprio quella di Simone quindi con l'angelo dei navigli le bici raccolte eccetera quindi appunto raccontare anche queste belle storie che sono totalmente in antitesi cioè ci sono tante persone che si prendono cura di Milano ecco secondo me la grande fortuna di Milano è questa ha tante persone che se ne prendono cura ma nel senso migliore del termine cioè che non lo fanno solo per il loro piccolo angolo di città ma che hanno a cuore l'idea di Milano a tutto tonno secondo me è questo insomma mi hai carissimi milanesi alla fine ne uscite bene vedete alla fine ne uscite ne uscite meglio della vostra città quasi l'esperienza che ho avuto con i milanesi è sempre stata molto 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 positiva molto positiva e mi viene in mente un'altra persona che so che conoscete bene Angelo Mazzone di Milano Segreta che spesso era su quella sedia qualche settimana fa ecco che spesso sentiamo e lui ultimamente sta facendo una campagna pro Milano da sempre in realtà in questi giorni ancora più del solito perché Milano Segreta per esempio vuole raccontare la Milano Bella la Milano che magari su cui magari non ci si sofferma perché appunto fa più notizia e anche qui ci prendiamo la nostra fetta di colpe perché fa più notizia magari il tema sicurezza l'emergenza sicurezza chiaramente fa il titolo la cosa che mi sembra di aver capito è che in realtà questa Milano che tu racconti è tutto il contrario di tutto nel senso che la stessa identica città può essere piuma può essere ferro come diceva esatto e come fanno a convivere insieme queste due realtà perché in realtà poi alla fine in qualche maniera riescono non so come oppure no è un'alchimia ma in realtà credo di sì perché tutto sommato Milano ha sempre mantenuto il suo ruolo possiamo dire di leader poi da Expo in poi abbiamo raccontato di una Milano che è diventata adesso improvvisamente il mondo si è accorto che Milano è anche bella per cui che Milano può anche essere attrattiva a livello turistico e quindi da questo punto di vista Milano appunto è riuscita a superare è riuscita a superare bene sostanzialmente è riuscita a uscire anche dal tunnel del covid è riuscita a darsi una mano quindi secondo me è un equilibrio delicato anche io non ti saprei dire come ma funziona però c'è di questo equilibrio rimane con tanti disequilibri ma anche con tanti equilibri funziona assolutamente sì ebbè insomma questa forse è la fortuna di avere voi appunto carissimi milanesi che ci seguite che sapete cosa fare e che come dice appunto Lucia vi prendete cura e tanta cura di questa città che a volte sembra un po' malandata a volte sembra invece tanto bella e dorata insomma è veramente come diciamo tutto è il contrario di tutto ma grazie ai milanese insomma rimane in piedi e anzi si evolve e cambia sempre continuo cambiamento continuo cambiamento Eye of the Tiger gli occhi della tigre quelli con cui Lucia Landoni guarda la città non lo so Lucia usi gli occhi della tigre cerchiamo cerchiamo abbiamo nominato alcuni nostri amici prima appunto Simone Lunghi Angelo Mazzone ma invece ti chiedo dimmi qualcuno che invece non conosco che dovrei invece conoscere ma una delle prime persone che mi vengono in mente perché ne abbiamo scritto spesso è Greg Greg il pittore dei navichi Gregorio Mancino lui per esempio si fa carico a livello proprio i milanesi che si prendono cura di pulire il ponte Aldamerini ogni volta che viene sfregiato con scritte graffiti vari eccetera per cui torna al tema della cura assolutamente torna al tema di voi milanesi che vi mette cura in più oltretutto con una verba artistica questa appunto di Greg beh allora lo andrò sicuramente a seguire come voi dovete invece continuare a seguirci in diretta perché continuiamo a raccontare Milano continuiamo a raccontare Milano fino alle nove qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano ma soprattutto con Lucia Landoni qui con noi adesso un po' di musica e poi torniamo subito qua in diretta Diana Ross Upside Down Diana Ross questo era il Crystal History ma andiamo avanti con nostra Lucia Landoni da Repubblica che viene qui appunto a raccontarci un po' la città e soprattutto adesso mentre stiamo chiacchierando così andiamo un po' a vedere Lucia di cosa hai parlato negli ultimi giorni ieri ci hai messo tutti in confusione perché si sappilo ieri tu hai pubblicato questo articolo hai scritto questo articolo il Moscardino abita a Milano la scoperta dei ricercatori prima segnalazione una città del nord Italia importante alla biodiversità e poi pensavate al polipetto noi quello subito subito ci hanno detto ma da quando qua vivono i polipetti al parco nord in realtà anch'io in realtà anch'io invece i ricercatori ci hanno spiegato che il Moscardino è questo roditore molto simile al Ghiro che è un fondamentale guardiano della biodiversità e quindi abbiamo appreso questa cosa per quello che ti dicevo quindi quando faccio una pasta con i Moscardini devo stare attento adesso a che i Moscardini mi mettono dentro esatto non metterci roditore non metterci roditore perché è fondamentale pare che sia il primo avvistamento in un'area urbana del nord Italia così importante e quindi per quello è fondamentale perché è sentinella della biodiversità perché pare che lui vive in un habitat complesso per cui il fatto che il Moscardino stia bene lì vuol dire che tutto sommato non è così male esatto complessa ma tutto sommato non così male però non così male infatti esatto per cui la Milano la domanda che si fa al milanese è ma ci mancava anche il Moscardino c'è un altro roditore c'è un altro roditore c'è un altro i topi i scoiattoli le nutrie sui nostri social dove di solito i lettori tendono a essere anche sui social non essendoci filtro il lettore tendenzialmente tende a dare sia il meglio che per certi versi è un po' il peggio di sé ma non solo il nostro lettore in generale l'essere umano esatto in realtà sul Moscardino abbiamo raccolto molti commenti del ma che carino ma sei bellissimo quindi questa cosa del Moscardino è piaciuta molto dire al Moscardino che è bello e carino vabbè poi ne parliamo capiamo gli standard estetici che hanno la gente che vi segue è piaciuto è un'altra cosa che hanno i milanesi sono molto attenti alla fauna alla fauna locale perché mi è capitato di scrivere di appelli di quartieri interi sul fatto che la colonia felina lì andasse tutelata per cui abbiamo anche qui ci siamo fatti la portavoce presso il comune perché loro chiedevano che la colonia fosse messa in sicurezza una colonia felina del quartiere Adriano nello specifico per cui tendenzialmente alla fauna i milanesi hanno preso la lettera la giungla metropolitana quindi la fauna è fondamentale la giungla abbastanza di recente ho scritto anche un pezzo su quanto i milanesi amino loro cani e gatti per cui quanti ce ne sono e abbiamo sentito allora adesso questa qui me la devi dire adesso ti ricordi allora il dato esatto però siamo nell'ordine però siamo nell'ordine delle decine di migliaia abbiamo decine di migliaia tra cani e gatti e soprattutto soprattutto molto molto coccolati infatti mi dicevano dalle di ambiente che il problema qui non è tanto più degli abbandoni che è più ancora purtroppo una piaga che al sud al centro Italia è ancora molto sentita a Milano città in realtà l'abbandono è meno sentito per fortuna è un fenomeno in riduzione ma in realtà li viziamo troppo cioè li soffochiamo come coi figli facciamo esatto li soffochiamo nel senso che magari non gli diamo più da mangiare in maniera corretta nel senso che li sovralimentiamo gli diamo cose che assolutamente li alimentiamo come noi e quindi sostanzialmente con alimenti che per loro non sono assolutamente indicati il cane olistico vegano assolutamente cose di questo tipo sì piuttosto che il cane che mangia lasagne quindi queste cose per cui sostanzialmente li soffochiamo ignoriamo la loro etologia per quello che a noi piace e sembra carino ma appunto prima parlavi di chi commenta di chi parla segui i vostri articoli così come risponde appunto la città all'informazione locale superato lo scoglio famoso del oddio c'è un giornalista davanti a me esatto ma anche quando leggo una notizia invece superato quello interagiscono molto in realtà interagiscono molto soprattutto appunto da quando dicevo informazione integrata per cui ci sono anche le piattaforme social interagiscono molto per cui fanno fanno sentire la loro voce tendono sempre a darti a darti un loro un loro parere spesso anche molto ruvido anche molto brusco del tipo ma non sapete fare il vostro mestiere c'è questa c'è questa cosa c'è questa componente ecco anzi una cosa che noi vorremmo sempre poter dire al lettore tendenzialmente nel momento in cui un articolo va online nel momento in cui un articolo finisce sulle pagine del giornale è stato lavorato pensato c'è dietro un impegno da parte a volte non solo del singolo giornalista anzi quasi mai perché poi dopo c'è il desk che lo passa se ne occupa lo impagina lo titola per cui tendenzialmente c'è un lavoro dietro ecco diciamo i titoli non li scegliete voi più c'è il titolista diciamo più o meno anche in online i titoli sostanzialmente si se ne occupa il desk noi diamo un suggerimento ma c'è il desk che poi se ne occupa e quindi quando vi diciamo non sempre il titolo lo sceglie il giornalista che scrive l'articolo dipende da questo sostanzialmente che poi dopo ci si confronta con il desk chiaramente ci si confronta chiaro in tutto questo girare e peregrinare per la città gli incontri diciamo quello più divertente o più buffo o più strano che hai fatto qual è stato? immagino ci sia un bel catalogo ce ne sono esatto ampio ti direi Emanuele Mantovani che è un signore un genialoide nel senso che gli è venuta questa idea di trasformare le vie di Milano in calamite e quindi lui va lui gira per Milano con la sua bici va a copiarsi le targhe con i nomi delle varie vie di Milano ma le ricoppia ma le ricoppia con una meticolosità certosina proprio dal carattere che è esattamente quello della via al numerino in fondo alla targa per cui che è la catalogazione che il comune e le trasforma in calamite ha cominciato dalle vie e adesso è passato anche alle fermate della metropolitana per cui ci sono delle calamite con ogni fermata della metropolitana ha una sua calamite e com'è che non c'è un colpo di redazione? è pazzesco questo signore è stato nel suo laboratorio e ha praticamente una lettera d'amore a Milano quel laboratorio perché lui lavora lui prepara mi ricordo ha preparato sostanzialmente una sai le palle di neve quelle natalizie ma con dentro il tram ci sono i poster del castello sforzesco e poi appunto lui ha questa è diventato un catalogatore ma proprio meticoloso ai limiti proprio del maniacale delle vie di Milano delle targhe delle vie per cui tu puoi acquistare dal suo sito la tua calamita con con il nome della tua via preferita della via in cui lavori adesso gli chiediamo se c'è via Bernabobisconti della via in cui lavori ma te la fa lui le fa anche su commissione va a vedersi tu gli commissioni la tua via e lui va a vederla viene qua all'angolo se la guarda no bellissimo come si chiama hai detto? Emanuele Mantovani questo dovete segnarvelo e seguirlo le vie di Milano diventano calamite le vie di Milano diventano calamite beh qualcosa di bellissimo o comunque fatevi un giro su Repubblica trovate l'articolo si parla tanto sui giornali di tutto praticamente c'è qualcosa però che secondo te bisognerebbe di cui bisognerebbe parlare di più di cui bisognerebbe parlare di più ma forse ti dico ma questa è una deformazione mia nel senso che io nel senso che io amo molto le belle storie le storie agli etovine le storie qualcosa di cui tu parleresti di più a prescindere proprio nel senso ti dico le belle storie le storie quelle quelle positive quelle da cui non esce quelle da cui non esce una Milano Gotham ma anche una Lombardia perché come ti dicevo lavorando noi come redazione Milano da Milano dobbiamo raccontare non solo Milano ma la nostra sfida è quella di raccontare di fatto tutta la Lombardia per cui da qui c'è delle grosse fortune anche del mio lavoro nel senso che ho la possibilità anche di spaziare per esempio una storia bellissima che noi seguiamo dall'inizio che io ho avuto la fortuna di seguire dall'inizio è quella di Pizza Out dei ragazzi dei pizzaioli autistici e Nico a Campora per esempio mi chiedevi l'incontro più strano mi è venuto in mente Emanuele ma l'incontro forse più interessante che mi è più rimasto che mi ha più colpito è stato proprio quello con Nico a Campora di Pizza Out per cui e anche qui poi certo bisogna evitare poi diventare monotematici infatti ogni tanto in redazione mi dicono attenzione non facciamo la rubrica su Pizza Out non facciamo la rubrica su quello che fa Greg sul Naviglio per esempio che si prende cura che dipinge i suoi cuori caratteristici colorati con il ricciolino in fondo li dipinge ovunque tendenzialmente porta la sua arte negli ospedali per cui bisogna stare attenti chiaramente a non sovraccaricare neanche il giornale lì però c'è un certo punto una certa affezione a questi personaggi assolutamente ci sono persone di cui io soprattutto per esempio con Nico a Campora di Pizza Out siamo diventati amici per cui è proprio bello mantenere e si staura anche un rapporto di fiducia nel senso che loro sanno quello che ti dicevo prima tu racconti esattamente quello che volevo dire questo è bello nel senso quando una persona ti dice siete diventati il mio giornale di riferimento perché raccontate esattamente quello che volevo dire perché mi ci sento rappresentato è una grossa vittoria per noi ebbè grande vittoria Lucia allora va bene andiamo con un po' di musica poi torniamo qui perché siamo quasi ai seduti finali ma ancora qualche curiosità la voglio sapere da Lucia e da questa stramba città che è Milano che lei deve da una parte e dall'altra vuole raccontare tutti i giorni The Weekend con Dancing in the Flames 8.50 minuti quasi in conclusione qui con Lucia Landoni e anche con i vostri Whatsapp al 3317853555 leggo quello che è arrivato adesso che dice anche da Fuerteventura si ascolta Crystal Radio un saluto da un posto al sole da Marinella e Nello un saluto a voi e poi chiede PS che tempo c'è a Milano perché nel caso non torniamo oggi forse è stato meglio che state a Fuerteventura rimanete lì ancora per qualche giorno ma il tempo altro tema Lucia altro tema ma mi chiedevi pezzi per esempio storie strane per esempio anni fa mi era capitato e mi è rimasto impresso perché è veramente una cosa strana avevamo scritto un pezzo perché a Milano pioveva tutti i giorni alle 18 praticamente c'era una periodicità incredibile tutti i giorni pioveva di ciò per cui chiama il meteorologo e cerca di capire il perché come la perturbazione e quindi anche qua abbiamo il nostro osservatorio meteorologico Milano Duomo a fondazione che sono sostanzialmente le nostre bussole i nostri punti di riferimento quando dobbiamo scrivere di meteo quando dobbiamo scrivere di clima che cambia e purtroppo ci capita abbastanza spesso perché arrivano queste bombe d'acqua anche questo dicevo continuo cambiamento non tutti i cambiamenti purtroppo sono positivi poi anche qua mi è capitato per uno dei nostri speciali green and blue su Repubblica di sentire un docente della statale per chiedergli questi cambiamenti climatici che sono già qui che si manifestano anche qui nel locale effettivamente sono così irreversibili oppure che cosa possiamo fare in questo senso il nostro lavoro può fare la differenza nel senso che al di là del raccontare la bomba d'acqua il clima che sta cambiando per amor del cielo lamentiamoci del fatto che il sottopasso si allaghi ma cerchiamo anche di spiegare alla gente cosa possiamo fare per tentare quantomeno di rallentare questa catastro femminente sostanzialmente Lucia siamo appunto quasi in chiusura su cosa stai lavorando cioè adesso spenti i microfili andrai a lavorare su che cosa oggi? vi daremo consigli indicazioni su cosa fare ad Halloween a Milano e in Lombardia l'idea assolutamente sì ci saranno cose se possiamo spoilerare qualcosa ne avremo veramente per tutti i gusti c'è addirittura l'Halloween per i cani quest'anno ci sono addirittura feste ad hoc per i quattro zambi posso dire se non esiste nel mondo a Milano esiste assolutamente sì è qualcosa che Milano arriva e pioniera spesso e volentieri in cose che assolutamente in cui potremmo anche farne a meno posso dirlo io? lo dico io a volte siamo pionieri anche in cose in cui potremmo benissimo farne a meno eppure siamo pionieri anche lì eppure anche lì testiamo poi se non funziona il dramma è che funziona a volte quello che ti chiedi come sia possibile in qualsiasi altro luogo del mondo non funzionerebbe se Milano lancia il trend allora poi dopo funziona una pubblicità di qualche anno fa diceva c'è una app per tutto a Milano c'è spazio per tutto assolutamente sì anche per Milano al contrario ecco un'altra cosa molto curiosa di cui mi sono occupata è il blog Onalim Isabella a Milano c'è tutto addirittura anche c'è Milano al contrario e chi ha il coraggio di criticarla a Milano perché io mi ricordo quando diceva facciamo la week senza week perché sostanzialmente abbiamo troppe week per cui lanciamo ditemi la week più assurda che viene in mente così a questo punto la inventiamo ed era la no week potrebbe essere quella lì ti pensi week che durano tre giorni a volte a me fa ridere questa cosa la week che durano tre giorni quattro giorni hanno un calendario strano un calendario compresso Lucia grazie mille di essere qui con noi questa mattina buon lavoro buona ricerca grazie mille per le ultime festività di Halloween grazie davvero almeno lo festeggerai tu oppure a quel punto poi sei satura può essere infatti sto decidendo cosa fare mi sto decidendo fate voi io però non ci vado io mi metto lì quello che c'è poi io deciderò l'ultimo benissimo va bene grazie Lucia davvero grazie a voi seguitela sui social seguitela soprattutto su Repubblica appunto tutti i giorni praticamente possiamo leggere il tuo lavoro grazie mille davvero e adesso non ci resta che dire la parola fatidica delle 8.55 cioè sigla e lo sapete benissimo che dopo di noi c'è quel genio di Ambrogio Curti che ci racconta un po' tutta la musica quello che succede nel mondo della musica dietro le canzoni e le racconta appunto leggendo tra le righe del pentagramma alle 9.05 dopo il giornale radio c'è appunto Senti questa con Ambrogio Curti se invece volete riascoltare quello che è successo questa mattina o tutta la settimana o nelle settimane precedenti beh c'è il nostro sito goodmorning.milano.it ritrovate tutto quello che va in onda qui ritrovate tutti i pezzi tutte le rubriche tutti gli ospiti anche dove su Spotify e su Apple Podcast e se non vi basta neanche quello abbiamo anche YouTube pensate veniamo ovunque veniamo ovunque su Tinder ci stiamo lavorando adesso vediamo poi ha ovviamente dimenticato Facebook anche Instagram anche e Twitch le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Eri B di Lucia Landoni e Fabio Ranfi in regia Ginevra in redazione alla produzione Beatrice grazie mille buon weekend a tutti ci sentiamo e ci rivediamo lunedì ciao 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 ciao